buongiorno buongiorno oggi dove andiamo mattia al bosco di cerano siete mai stati al bosco buongiorno oggi dove andiamo abdullai ciao bambini sono claudia maffi una psicologa dello sport beh io voglio dirvi questo dall'anno scorso la nostra vita è un po cambiata ma una cosa non deve cambiare il piacere di pedalare all'aria aperta perciò quando è possibile uscite in bici pedalate e divertitevi all'aria aperta è davvero un toccasana soprattutto in questo periodo ciao bambini ecco le mascotte le mascotte simpaticone simpaticone avete visto quanti animali ci stanno prima l'avete visto quello degli anni di cartello questo è per quanto riguarda le piante che sono presenti un attimo sergio le nostre mascotte allora filippo dove stiamo qua al bosco di cerano di cerano questo è il parco giochi di chi fa mountain bike perché qua vengono si fanno tutto il tracciato sono quasi 12 chilometri di percorso tutti i sali e scendi tutti i tracciati belli dove chi fa mountain bike si diverte certo poi ci stanno sempre quelli che disturbano che rovinano i tracciati che rompono qualcosa però noi chiamiamo il bosco poi passiamo e sistemiamo nuovamente allora paolo che mi dici sei fatto il giretto hai visto solo parte del percorso giuseppe hai visto solo parte del percorso sono quasi 12 chilometri secondo voi ce la fanno secondo me secondo me se andate voi ce la fate è vero allora allora se vanno i piccoli della squadra ce la fanno i grandi ci stanno facendo ridere simpaticissimi bambini con le nostre mascotte e e strappa baci andiamo dai andiamo su che ci stanno aspettando forza taglia come va il nostro scalatore lorenzo schirinzi come andata samuel bello hai visto il bosco tu lo conoscevi già no ma lei è andata ma senza bici però stavolta ci siamo andati con la bici troppo bello il bosco nonno sergio che smonta la bici alla fine si fa tutto per i bambini è stata una bellissima giornata che consigliamo a tutti quanti ci mancherebbe lo sport e salutare va bene a tutti specialmente in questi periodi di rock down alla fine si fa tutto per i bambini perché certo certo l'allenamento c'è di piano piano certo perché quello qui do a leggere certo bisogna prenderla sotto forma di gioco adesso fare le escursioni hai voglia te la sei guadagnata questa briochina a me hanno detto che tu stavi aspettando proprio questo momento non è vero allora sentiamo le impressioni di oggi c'eri mai stato al bosco mai hai visto il bosco interno com'è hai visto i dinosauri no i coccodrilli no solo natura bellissima relax è vero troppo bello ci dobbiamo tornare o no guarda ma più in là poi torniamo di nuovo ciao ciao ciao